GF VIP, Oriana contro Martina, ex di Daniele, 6 PA, cosa è successo dopo la festa di Carnevale? Si respira un clima piuttosto teso all'interno della casa del grande fratello VIP. Soprattutto a causa dei dissapori tra Oriana Marzoli e Martina Nazoni. Le due geffine sembrano proprio non riuscire a comunicare e dopo la festa di Carnevale hanno iniziato a beccarsi fino ad arrivare a un acceso scontro. Le due coinquiline della casa più spiata dagli italiani hanno un rapporto visibilmente difficile. La tensione tra le due è palpabile e sembrano sempre pronte a scontrarsi. Il motivo del contendere potrebbe essere Daniele del Moro. Visto che una è l'ex compagna e l'altra è la nuova fiamma. Litigano, si offendono, fino ad arrivare a insulti, tanto che Oriana ha detto all'altra, ma figurati non sei una poeteta. Non riusciresti neanche a farlo, figurati. Martina, di fronte all'offesa ricevuta. Ha risposto, ok te invece la fai pure troppo e anche fuori di qui. Parole pesanti tra le due donne che stanno creando grande tensione all'interno della casa di Cinecittà. Seppure le due geffine non riescano ad avere buoni rapporti e sin da subito questo sia stato chiaro. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Ma le frizioni tra le due. Che scaturiscono dal legame con l'extronista di Uomini e Donne Daniele del Moro. Quest'ultimo, però, dopo i primi tentennamenti sembra sempre più legato alla modella venezuelana. All'interno del grande fratello VIP, quest'anno, stanno nascendo vari rapporti di coppia. Dapprima la Marzoli ha avuto un rapporto con Antonino Spinalbeise, mentre Antonella Fiordelisi ha una storia con Edoardo Donnamaria. Ora invece, Oriana sembra avere altri interessi. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni. Nasceranno altri rapporti. Oriana e Martina riusciranno a trovare un modo di comunicare o di evitarsi senza grandi conseguenze. La zero grade viscoli, nu tac nici stins mort. O să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor. Că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare. Astrologii au treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, decât mai toți ziceau.